Presentata questa mattina presso la sede della pubblica assistenza di Ravenna, una novità assoluta nel campo dei veicoli di soccorso. Grazie al nuovo sistema antibatterico progettato dall'azienda Orion, le autoambulanze del futuro potrebbero essere accessoriate dal sistema Pure Hilt, strumento capace di abbattere contemporaneamente la crescita di batteri, funghi, spore comunemente presenti sulle superfici. Quali le caratteristiche innovative di questa nuova ambulanza? Questa autoambulanza ha come caratteristica peculiare quella di avere le superfici interne trattate con un materiale fotocatalitico che viene attivato dal sistema di lampade con cui è equipaggiata. Questa attivazione fa sì che le superfici diventino antibatteriche e antivirali. Questa attivazione, questa proprietà di antibattericità e antiviralità è costante nel tempo e ha un effetto 24 ore su 24. L'autoambulanza riesce ad abbattere tutto quello che sono microbi o sostanze inopportune per un luogo dove devono salire dei malati o dei feriti? Certo, questo sistema riesce a abbattere dai test che abbiamo fatto i batteri, i funghi, virus. Questo abbattimento inizia subito appena il sistema viene attivato, quindi all'accensione delle lampade, e perdurano nel tempo, quindi i batteri, i virus, gli esperti, i microorganismi presenti vengono abbattuti e la loro crescita viene, diciamo, l'introduzione di nuovi batteri dall'esterno è impedita proprio da questo sistema. Un sistema innovativo che attualmente quanto è diffuso in Italia? Attualmente poco, perché questi sono i primi esemplari. Nel settore appunto dei veicoli, diciamo, della pubblica assistenza, come possono essere l'autoambulanza, l'autoambulanza che sta prendendo più ad ora, diciamo che ci sono già una ventina in giro. Quello che è interessante è che c'è molto interesse per i settori ospedalieri, quindi le sali operatorie, e anche per il settore dei trasporti alimentari, soprattutto per il trasporto mensa. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.